L'ultima parola lo avevano detto spetta al Consiglio Comunale e al civico consesso la decisione definitiva. Certo, il putiferio scaturito dall'ipotesi di riapertura al traffico di Piazza Cairoli forse non era nei piani dell'amministrazione che da giorni ha le prese con le rimostranze di quanti proprio non hanno gradito la presa di posizione della Giunta De Luca. Già da sabato numerosi banchetti allestiti per una raccolta firme circolata anche sul web che possa sensibilizzare il Consiglio verso le istanze di quei moltissimi cittadini che vogliono l'isola a Piazza Cairoli. Non comprendo lo scatenarsi di questa diatriba tra Guelfi e Ghibellini, inutile a mio avviso perché legittimamente dei cittadini hanno presentato una istanza, l'amministrazione l'ha recepita come era giusto che fosse, la manderà al vaglio del Consiglio Comunale che se come sto vedendo non è d'accordo, non presuppone nelle strategie generali l'adozione di questo provvedimento, lo boccia come nelle proprie competenze. E mentre il Vice Sindaco e Assessore alla viabilità bolla la polemica su Piazza Cairoli come sterile e fine a se stessa, spunta l'ipotesi di una grande isola che riunisca tutta la cortina del porto, ipotesi contenuta anche nel piano generale del traffico urbano in fase di definizione. Il sottoscritto aveva dato pieno mandato di vedere la percorribilità tecnica di istituire un'isola pedonale di tutta la cortina del porto. Ancora parliamo di città europee. Il sottoscritto ha detto di chiudere la cortina del porto dal viale San Martino al viale Boccetta, il che significa molto ma molto di più della piccola apertura di Piazza Cairoli. Non capisco il perché si è data tanta enfasi a una cosa negativa e invece non si è data enfasi a una cosa, a mio avviso, assolutamente positiva.